a proposito dei commenti sotto i video cari amici del dindon caffè buongiorno a tutti devo fare una piccola riflessione la faccio così a braccio senza grandi pretese ma voglio dire che voglio farvi capire che per me è davvero difficile affrontare i commenti sotto i video da un lato perché quando non aggiungono niente al video implicano che io ovviamente li leggo e come promesso cerco sempre di leggerli dove non c'è una vera e propria domanda o uno sviluppo della risposta o una riflessione maggiore perdonatemi ma sono un po' una perdita di tempo dall'altra parte ci sono invece tanti commenti belli interessanti di persone che si stanno confrontando che magari dicono su questo non ci sono ancora però mi rendo conto che è importante oppure questo non l'ho capito preferirei un allargamento un aggiornamento una riflessione eccetera e questi sì sono belli fanno riflettere io normalmente segno tutte queste cose ne ho un elenco e poi cerco di riassumerle oppure anche senza rispondere direttamente siccome la signora teresa ha scritto questo allora oggi faccio un video su quello che ha detto la signora teresa capisco dove sta un po' la radice del problema e magari affronto la cosa anche marginalmente ma per andare in qualche modo a portare anche questa persona a comprendere un risvolto che non aveva capito quello che invece è destabilizzante veramente destabilizzante sono quelli che fanno delle gigantesche teorie esponendo quello che vogliono loro in un modo aggressivo e denigratorio di tutto il lavoro che si sta facendo su questo canale questo è veramente faticoso per me è partito un tagliaerba è veramente faticoso per me per cui siccome in questo periodo della vita ho pochissimo tempo ed energia per fare questi video per un po' sospendo i commenti quindi non spaventatevi non è successo niente però ho bisogno di alleggerirmi vorrei farvi però anche capire ecco un piccolo disclaimer che cosa succede tutte le volte che arriva un commento mi arrivano tre notifiche una da un'applicazione un'altra dall'altra applicazione e una come email quella dell'email è molto importante perché io posso tenere traccia le altre sono tutte notifiche che mi raggiungono mentre io sto facendo altre cose e non posso da un lato ignorarle perché poi una notifica va a coprire l'altra per cui rischio di perdere perdermi delle cose ma dall'altra parte continuo a perdere la concentrazione su quello che sto già facendo su un'altra cosa ecco e uno diceva vedo stefano questa cosa è un problema tuo risolvitelo sì però volevo farvi capire che c'è dietro davvero una fatica altri che fanno video se ne strafregano dei commenti e siccome anche i commenti fanno in qualche modo visualizzazioni li lasciano lì io invece vorrei instaurare un po un dialogo allora per questo io dico chi è già nel gruppo telegram interagiamo lì in modo tale primo che riusciamo a conoscerci meglio e ad essere anche più fratelli nell'esposizione anche dentro nelle differenze di pensiero però ci si incontra di più chi non è nel gruppo telegram e beh mi contatta e al massimo chiede di entrare nel gruppo telegram e così per un po allontaniamo un po anche tutta quella schiera di persone che vengono a commentare il video certo fanno aumentare le visualizzazioni ma a me non interessa questa cosa qua questi vengono per denigrare per insultare per maledire per arrabbiarsi io dico ma no questa cosa non va bene non va bene ok così come sono stato costretto in certi momenti addirittura a bloccare delle persone e delle persone che non capiscono che uno di mestiere non fa lo youtuber io di mestiere continuo a fare prete no per cui se una cosa non l'hai capita va bene cercherò di rispiegartela ma se una cosa non rientra nella tua mentalità è inutile che mi metti dieci messaggi andando a commentare tutti i commenti che hanno fatto gli altri per dire ah non seguite questo prete questo prete vi porta all'inferno brucerete tutti ora chi è è patologico è patologico ma io non posso essere in croce sulla vita perché c'è un sacco di gente patologica che non avendo niente da fare passa le sue giornate a commentare i commenti degli altri leggendosi tonnellate di commenti ecco quindi è proprio un po una cosina complicata adesso per un periodo appunto che per me è molto complesso per un periodo eviterò i commenti ecco era soltanto per per spiegarvi che cosa che cosa succede che cosa sta succedendo niente di grave per un po' è così comunque noi continuiamo con il gruppo camminava con loro e andiamo avanti ciao a tutti ciao a tutti